Il palco di Suona Diverso con i Dream Steel che sono tra poco sul palco di Cade Mandorli Che cosa suonate? Noi siamo una band di metal melodico e suoniamo un genere che non è estremissimo però comunque sempre nel settore metal quindi busseria Cosa fate nella vita? Allora io sono un dipendente, sono un ingegnere, sì non sembra ma è così, brutta gente esce da ingegneri Tu invece? Io lavoro in piscina Ti chiami? Diego Io ho lavorato in negozio di strumenti musicali e adesso insegno batteria Sei nel mondo quindi? Sono rimasto nel mondo, sì E tu? Io mi occupo della direzione didattica della Ricordi Music School di Bologna e poi niente, suono con loro Quanto tempo è che suonate insieme? Troppo Saranno 12 anni? Insieme, allora proprio insieme, forse sarà una decina Allora il gruppo esiste da una 12-13 anni, con questa formazione cosa saranno? 4-5 anni? No di più, sono 7 anni Siete tutti d'accordo? Sì, è come con le manifestazioni, dai c'è il ballo delle cifre, i sindacati ne dicono una, la polizia ne dice un'altra Ok, ne ascolteremo delle belle, ho capito Per quanto riguarda invece quello che portate oggi, che cos'è? Sì, è sempre il genere che ho detto prima, però sì, sono pezzi nuovi che dobbiamo ancora registrare e quindi potrebbero essere un po' immaturi, ma li proviamo, li lanciamo così Ok, quindi li ascoltiamo qui sul palco di Cademandoli, suona diverso, a voi Sì, è sempre il genere Grazie a tutti 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 Grazie a tutti